Nel brano evangelico di questa domenica il Signore sembra chiederci tanti gesti e molti esigenti. Nell'ascoltarlo il nostro istinto si ritrae come in un rifiuto o anche come un senso di ingiustizia. Ma come se uno mi dà uno schiaffo devo porgere l'altra guancia? Non chi ti accusa ti dà tutto quello che hai anche il mantello. Per noi dare il mantello e noi che abbiamo tanti cappotti abbiamo gli armati pieni non è niente ma per un povero ebreo di allora era tutto. Era coperta, protezione, casa. Era tutto quello che possedeva. Poi ci chiede di amare i nemici. Amare come difficili. Amici, parenti, nemici no. Amare è la cosa più bella di questa vita ma anche la più insidiosa. Come si fa ad amare chi ti ha fatto del male? Perché Gesù oggi in questa domenica e in ogni giorno della vita ci chiede tutto questo? C'è una sola risposta. Gesù ci vuole liberi. La libertà non è fare quello che si vuole. La vera libertà parte dall'interno, dal cuore, dall'intimo più profondo, dove inconscio e conscio si confrontano, nella profondità dove lo Spirito Santo ci abita. Infatti San Paolo nella seconda lettura ci dice che non sapete che siete Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? È lo Spirito che ci insegna a fare scelte coerenti alla dignità dell'uomo. Il male e il bene si combattono per primo nel nostro cuore, nell'intimo, ed è lì che avviene la nostra scelta se amare o odiare. Non è facile ma è la sfida che ci chiede Gesù. Ogni giorno dobbiamo sfidarci a prendere quella via della perfezione che non è arrivare alla stessa altezza di Dio Padre come Gesù stesso sembra chiederci. Siate perfetti come perfetto il Padre vostro celeste, ma essere come Lui, come Gesù, che da Dio si è fatto uomo come noi, stessa condizione umana di fragilità. Lui che ha sofferto umiliazione e rifiuto dai suoi conazionali, dai sacerdoti e dai capi, e ha subito il tradimento dai suoi discepoli. Ha subito la morte ed ha continuato ad amare. Per questo è venuto nel mondo. La perfezione allora è compimento, non portare a termine un dovere, ma avere un fine, sapere dove si vuole arrivare. E compiutezza, essere completo, intero, e pienezza, e giungere a massimo grado, cioè esserci dentro tutto. Allora essere perfetti come i Padre celeste e arrivare ad essere veri con se stessi e con gli altri, nella bellezza e nell'accettazione di sé. E essere i Santi, come dice Levitico nella prima lettura, siate santi perché io, il Signore, vostro Dio, sono santo. Ed essere i Santi e amare il prossimo come se stessi. Più si è addentro nelle cose di Dio, nel suo Vangelo, più la tua vita diventa vera. Allora il Vangelo di oggi non vuole obbligarci ad essere chissà quale eroe, ma semplicemente noi, nella bellezza e nella verità del nostro essere stati fatti ad immagine e somiglianza di Dio. Abbiamo un grande segreto nel nostro intimo, come dice Santa Teresa di Gesù, la nostra fondatrice. Anche noi abbiamo un'anima fatta ad immagine e somiglianza di Dio, ma non sappiamo apprezzarla come si merita, per cui non conosciamo i grandi segreti che sono in essa. E allora entriamo nel nostro intimo e scopriamo i grandi segreti che ci abitano e la vita sarà più bella. Buona domenica nella scoperta di voi stessi.